È una sorta di monumento del quartiere Pantano, luogo dei sogni, luogo dei desideri per generazione di bambini pesaresi. Parliamo del tip top, punto di vendita di giocattoli di Vianitti che sabato sera, dopo 34 anni, chiuderà le serrande definitivamente. 34 anni stupendi, bellissimi, ho servito i clienti, ringrazio tutti loro per quello che hanno dato a me. Invece loro vengono da me tutti i giorni e mi ringraziano per quello che gli ho dato io. Perciò io dico grazie a tutti per quello che ho fatto. Questi normalmente sono i giorni di massimo afflusso in un negozio di giocattoli. Quest'anno è tutto il contrario. Avete cominciato da ottobre una campagna di svendita totale che è stata presa d'assalto nei mesi precedenti. Sì, ottobre è stato come il mese di dicembre per noi, uguale. Perciò abbiamo anticipato tutto il dicembre. Però io pensione meritata, penso di meritarmela. Tutto qua. Una linconia però, ma anche un po' di soddisfazione perché dai, voglio dire, è una vita che sono qua dentro, sempre qua dentro. Un po' di sollievo c'è quando no, chiudi un'attività. Però mi dispiace perché 34 anni sono sempre 34. La storia del tip top è una storia personale, ma è anche la storia di tante attività commerciali che vedono questo tipo di lavoro sempre più difficilmente sostenibile davanti alle grandi catene dei negozi, alla grande distribuzione, all'avvento del commercio online. Io ho superato 3-4 grandi distribuzioni, però questo qui di internet non ce l'ha fatta perché la gente viene a vedere, il prodotto non finisce mai su internet, mentre noi finisce, grande distribuzione finisce, ma su internet non finisce. E questo è il male, il male che non ce la fai più andare avanti, insomma. Noi abbiamo deciso quest'anno perché abbiamo visto i primi mesi già un calo. Io volevo chiudere il prossimo anno, però ho deciso per quest'anno e non mi sono pentito di chiuderlo, perché vedo che anche i miei colleghi zoppicano. Anche mio figlio magari voleva continuare anche con i dipendenti così, però io non l'ho sostenuto perché non vedo alternativa. Insomma, qui ti devi buttare, secondo il mio punto di vista dovresti fare un negozietto in famiglia, perché con i dipendenti ragazzi ha un costo elevato. Invece facendo, diciamo, da soli in famiglia, sì, fai un sacco di ore via via, però secondo me ancora spazio c'è sul settore giocattolo, perché tanti bambini ci sono sempre e sempre ci saranno. E' il metodo di acquisto che ha cambiato. La gente va su Inter e giustamente c'è il prezzo. E' logico, non lo toccano con mano, però quando c'è il prezzo c'è il prezzo.